Papa Francesco ha presieduto questa mattina in Basilica San Pietro il concessore ordinario pubblico per la creazione di 18 nuovi cardinali, il diciannovesimo nuovo porporato, il novantottenne ex segretario di Papa Roncali Loris Capovilla e assente per motivi legati all'età. In Basilica erano presenti le delegazioni ufficiali di 15 nazioni d'origine dei cardinali e di regioni e province italiane. Alla cerimonia ha preso parte anche il Papa Emerito Benedetto XVI seduto in prima fila a fianco delle postazioni del collegio cardinalizio. E' stato salutato con affetto e venerazione dal neocardinale Pietro Parolin nel suo discorso iniziale. Lieti per la sua presenza in mezzo a noi ha detto. Al suo ingresso in Basilica Papa Francesco dopo aver percorso in processione la navata si è diretto verso il Papa Emerito Benedetto XVI e lo ha abbracciato. E' la prima cerimonia pubblica in Basilica in cui sono presenti due papi. Nella sua omelia il Papa ha espresso vicinanza spirituale alle comunità ecclesiali a tutti i cristiani che soffrono discriminazioni e persecuzioni. La Chiesa ha bisogno della nostra preghiera per loro ha detto perché siano forti nella fede e soprattutto sappiano reagire al male con il bene. E questa nostra preghiera si estende ad ogni uomo e donna che subisce ingiustizia a causa delle sue convinzioni religiose. Per Papa Francesco gli uomini della Chiesa debbono essere in pace con tutti anche con se stessi. La Chiesa ha affermato ha bisogno di noi anche affinché siamo uomini di pace, facciamo la pace con le nostre opere, i nostri desideri, le nostre preghiere. Per questo invochiamo la pace, la riconciliazione per i popoli che in questi tempi sono provati dalle violenze e dalla guerra. Papa Francesco ha pronunciato nel suo primo concistoro i nomi dei 19 cardinali, 16 dei quali entrerebbero in un'eventuale conclave e tre ultra ottantenni. Da oggi sono 122 i cardinali dei quali 41 creati da Giovanni Paolo II, 65 creati da Benedetto XVI e 16 da Papa Francesco. I non elettori invece saranno 96. In totale dunque i cardinali di Santa Romana Chiesa da oggi sono 218, due creati da Paolo VI, 116 da Giovanni Paolo II, 81 da Benedetto XVI, 19 creati da Papa Francesco. I nuovi porporati provengono da 15 paesi, 8 dall'Europa, 5 dall'Italia, tra cui un non elettore, 3 dal resto dell'Europa, Germania, Gran Bretagna e Spagna, 4 dall'America settentrionale e centrale, Canada, Nicaragua, Haiti e Antille, 3 dall'America meridionale, Cile, Brasile e Argentina, 2 infine dall'Africa, Costa d'Avorio, Burkina Faso, infine 2 dall'Asia, Corea e Filippine.